ARTUR! 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 Oh... Finalmente... Questo è il fidanzato di Peña Mina, eh? Have you found her? Not yet, no. Non ti perdere d'animo to find her, eh? ARTUR, abbiamo trovato un lavoro per te. Un lavoro vero. No, grazie. Era un mezzo mago, così ce lo siamo portato con noi. Qua. Là sotto ci sono cose che non sono fatte per gli occhi degli uomini, ma delle anime. Ti aspettavano. Da due mila anni che ci aspetta questo. ARTUR! 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 Dobbiamo scappare. È lì fuori, pieno di carabinieri. E' di valutare inestimabile. È di valutare inestimabile. E' di questo ci siamo qui per. Per estimare l'inestimabile. Ma certo che eravamo tutti matti stietruschi. Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino. Noi volevamo fare i soldi. Ma lui... Lui cercava una porta. Un passaggio quello al di là. Okei! Grazie a tutti.